In questo film si mette in evidenza l'umanità di quei ragazzi della mia età, ma anche più piccoli che si allontanavano dagli affetti per andare a morire. Quindi, insomma, questi ragazzi sono morti anche per noi ed è importante che i giovani vedano questo film. Sentire la condizione umana dei soldati, comprendere la crudeltà della guerra e il coraggio di moltissimi giovani. Sono questi i pensieri su cui invita a riflettere l'attore Andrea Di Maria quando si parla dell'opera cinematografica che lo annovera tra i protagonisti. Ossia Torneranno i Prati, un film di Ermanno Olmi che descrive la violenza della grande guerra e che nei giorni scorsi è stato proiettato anche a Sala Consilina, città del poliedrico artista, il quale, nell'occasione, ha riferito della sua esperienza sul set dell'impegnativa pellicola, spiegando l'importanza di essere guidati da un grande regista. Ma non solo. Dalle parole di Andrea Di Maria è emerso anche il forte attaccamento al suo territorio. Sono orgoglioso di portare avanti, se così si può dire, il nome di Sala. E in tutto quello che faccio io porto un pizzico di questo territorio dentro di me e cerco anche di usarlo a mio favore. Quindi nella costruzione di un personaggio, nelle atmosfere, cerco di attingere da quel bagaglio, da quel vestito che ho cucito durante gli anni qui a Sala. Quindi sono contento. L'attore Salesi ha poi rivolto un messaggio ai giovani in ascolto. Ognuno di noi ha delle virtù, delle capacità. L'importante è quello, riuscire a capire quali sono e lavorare su quello. Quindi la spontaneità paga sempre. Quella è l'unica cosa che... siate spontanei. Saluto a tutti quanti. Venite a vedere il suo film perché veramente è importante. Grazie a tutti.